E vogliamo essere chiari nell'applicare una legge che già c'è, che è del 75, e che impone che chi frequenta un luogo pubblico, un ospedale regionale, un luogo pubblico, deve essere identificato, visibile, girare a volto scoperto, senza nessuna eccezione di carattere religioso. Le suore che citava la persona in collegamento, italiane o comunque cristiane, cattoliche, hanno un velo che non copre il viso, come anche molte donne islamiche, sul quale non c'è nessun tipo di problema. Il tema è quando abbiamo persone con un velo niqab o il burka, e ci sono, ce ne sono purtroppo anche tante, che coprono tutto il viso.